Davide Giacalone, bentornato, buona settimana. Buongiorno, eccoci, buon inizio di settimana. Eccoci pronti per la rassegna stampa. Allora, la prima del Corriere della Sera, un pass per l'estate sicura, scuola e timore di presidi e regioni. Entro luglio 54 milioni di dosi dall'Europa, di questo parleremo più tardi. E poi la prima di Repubblica, milioni di test per la scuola. Abrignani, comitato tecnico scientifico, parla a proposito del ritorno in classe. Tamponi salivari una volta a settimana a tutti gli studenti. Davide, la tua. L'impressione non gradevolissima, per la verità, è che ancora una volta c'è una certa distanza fra la proclamazione e l'esecuzione. Cioè, dico che dal giorno tal dei tali si può cominciare a rifare questo, a rifare quell'altro. Adesso che l'ho detto, ho finito. Però poi c'è l'esecuzione, c'è tutta l'organizzazione, le cose che leggo sui giornali. Soprattutto molto nelle cronache locali, nelle varie parti d'Italia, ci sono molti presidi alle prese con problemi materiali, pratici, in cui nessuno li aveva avvertiti. E ovviamente il tema dei trasporti all'esterno. Interessante questo titolo relativo ai test, perché la settimana scorsa mi ero permesso appunto di osservare, perché si parlava di test a campione nelle scuole. In che senso test a campione? I test a campione si fanno per controllare la diffusione di una devianza. Faccio test a campione antidroga, faccio test a campione sulla diffusione dell'alcol. Quindi cerco di capire se c'è un problema che si sta diffondendo in questo o quel luogo di Italia. Se invece ho a che fare con un virus e quindi con una pandemia, non è che faccio i test a campione, dovrei fare i test ripetuti, perché l'alternativa a rimanere tutto chiuso, ed è bene che si superi quel momento lì, però è quello di controllare continuamente. Primo di tutto vaccinare, vaccinare, vaccinare. Ma poi in qualche modo anche cercare di controllare, di testare, di tracciare il virus. Insomma, bisognerà lavorare molto su quello che è molto poco appariscevo, non fa spettacolo, non porta voti, non porta consensi, però poi quando le cose si fanno male e si producono effetti negativi, sì, il lato consensi e spettacolo non ne risentono in maniera positiva. L'ha già annunciato Enrico Galletti, anche dalla Repubblica c'è anche sulla stampa, dall'Europa 54 milioni di vaccini e da giugno stop ad AstraZeneca, riaperture, ancora scontro con le regioni Bonetti, anche se ricrescono un po' i contagi, non è grave. Parliamo di vaccini e vaccinazioni. Allora, qui bisogna anche qua, da giugno stop, sembra come dire adesso da qua a giugno, vabbè, ammazziamo qualcun altro, poi dopo da giugno smettiamo. La notizia non ha alcun rilievo e interesse per l'opinione pubblica, ma giusto per capire il punto di vista, questa settimana arriva il mio turno di vaccinazione, lo farò e lo farò a AstraZeneca, non mi sento uno di quelli, non per scelta, ma perché questo è quello che è previsto, è benissimo. Il tema dell'acquisti, e quindi stop, non stop, eccetera, è un tema che è largamente connesso ai contratti, alle modalità contrattuali, il resto, titoli simili, servono in qualche modo a inquietare l'umanità. Sul giornale trovate, arriva l'ok dal siero Johnson & Johnson, vi ricordate che era stato sospeso la settimana scorsa, e la nostra osservazione era stata, ho l'impressione che abbia a che vedere con lo sbarco in un mercato, e quindi in un sistema diritto come europeo, che è diverso da quello statunitense, non può mettere le mani avanti, non venite poi a chiederci di eventuali conseguenze, ma è assolutamente ovvio, cioè sono cose nella normalità. Il punto è che adesso entriamo nella stagione dell'abbondanza di vaccini, e per quanto continuiamo a dirci che acceleriamo, ed è vero, acceleriamo ed è una cosa estremamente positiva, però non abbiamo ancora la velocità di crociera che è necessario avere per poter portare a casa dei risultati in tempi utili, a che le riaperture non ci creino dei problemi, perché questo sarebbe veramente una cosa che si paga negativamente. Le dosi, diciamo, acquistate dall'Urione a questo punto sono disponibili in massa, segnalo che in Austria, dopo aver fatto tanta confusione, come tanti hanno fatto anche in Italia, in Francia, in Germania, perché quelli che sparrano a Vanvera sono noi, però la Germania, cioè, scusate, l'Austria si era fatta proprio come governo, ha detto, noi compriamo i vaccini da un'altra parte, noi, beh, perché dobbiamo salvare i nostri cittadini. Adesso la posizione ufficiale del governo austriaco è abbiamo fatto benissimo a delegare l'Unione Europea a comprare i vaccini, perché sennò non li avremmo avuti così tanti e a così basso prezzo. Rimane naturalmente il diritto di ciascun governo di comprare dosi ulteriori di vaccini, quelli che non sono comprati dall'Unione Europea, cioè i cinesi, i lussi, ma solo se vengono autorizzati, perché naturalmente non vorremmo mica inoculare vaccini che non vengono autorizzati. Bravi, grazie. Se avessero evitato di dire corbellerie, prima sarebbe stato meglio per tutti. E allora, dicevamo di questa data per le prime riaperture, 26 aprile, c'è ad esempio la Lega di Matteo Salvini che spinge su due fronti, togliere il coprifuoco e permettere anche, insomma, quelle attività che non possono lavorare all'aperto, come alcuni ristoranti, di riaprire comunque. Il titolo di testa del messaggero di oggi è Locali al chiuso, ok, più vicino. Il piano del governo da metà maggio, via libera, a pranzo, ai ristoranti che non hanno spazi all'aperto. A te. Sì, c'è la corsa a intestarsi qualche cosa. È un po' triste, diciamoci la verità, è un po' triste questa cosa di dover correre a intestarsi. C'è un gruppo di ristoratori, c'è sette o otto persone, che sono andati a mangiare fuori dalla casa di Draghi, di Draghi a Città della Pieve, perché così vi si intestano la fotografia, stanno tutti brindando, quindi alla salute. E poi quello che c'ha il problema di dire ma allora ci si discrimina i ristoranti che ci hanno... che adesso si dice il DO, all'aperto, cioè hanno il tavolo fuori e i ristoranti che non ce l'hanno. Ma scusate, ma è assolutamente ovvio che sia così. Per cosa ci siamo detti prima di sapere che il 26 aprile si sarebbe riaperto? Cosa hanno detto gli stessi ristoratori e la Conf Commercio nella manifestazione saggia, pacifica, informata che hanno fatto a Roma? E' uno ha detto non metteteci nella condizione di riaprire e poi richiudere perché sarebbe mortale. Perché il cost... perché riaprire, certo, è un momento di ripartenza ma è anche un costo. Per cui se questo costo poi non mi dà luogo a quello che credo sia il mio diritto, cioè poter lavorare, allora fatemi aspettare di più ma non fatemi riaprire e poi farmi richiudere. Allora, se io riparto e al momento in cui ho finalmente una data in cui dico adesso comincio a riaprire, forse si può mangiare, sì, ma all'aperto attenzione ai contagi. Mi raccomando tutta la responsabilità dei cittadini di attenersi alle regole perché sennò poi c'è il rinculo. E poi parte la gara. Eh, ma io voglio mangiare dentro vicino a quell'altro. No, io voglio, beh, e io qua, e io là perché quell'orario perché non un altro. E allora va bene. Questa è la scena della Sardegna. È la scena dell'estate. È la scena del ripartiamo perché non se ne può più e poi dopo si dice richiudiamo perché sennò crepiamo tutti. Non mi sembra una strada. Forse, diciamo, suggerire maggiore cautela senza necessariamente diffondere paura, ma cautela serve a tutelare gli affari. Bisogna tutelare i soldi. Andiamo incontro alla stagione in cui si può fare maggiormente all'esterno. Cerchiamo di usarla e di approfittarne. E soprattutto, scusate, noi abbiamo un'Italia ha un interesse vitale a che ci sia il pass europeo per vaccinati e per tamponati che non sono positivi. Perché siamo il paese che li riceve. Noi continuiamo a parlare solo ed esclusivamente dei nostri movimenti interni che sono importanti naturalmente ma i soldi cioè il business durante l'estate è riceverli. Invece di questo vedo che non c'è categoria che se ne voglia occupare. Gli alberghi, i ristoranti, le cose, il campano di quello, le piazze, le città d'arte, le città di mare, di montagna. Questa roba qui dovrebbe essere l'Italia dovrebbe essere la portabandiera del dateci il pass mettiamo il pass ma come funziona il pass quali sono le condizioni del pass cioè ne frega niente a nessuno. E dovrebbe tra l'altro farne del marketing all'estero del fatto di avere appunto questa possibilità di entrare facilmente col pass. Allora andiamo anche sul messaggio sempre rimanendo scusate sul messaggero c'è questa notizia centropagina super bonus 100% troppa burocrazia flop da 18 miliardi norme complicate per i lavori nei condomini usati solo 730 milioni Lance che l'Associazione Nazionale dei Costruttori dice prolungare fino al 2023 a parte Davide ma non era il 110% o è un'altra cosa è un errore? Hai ragione è un titolo sbagliato ah ok anche perché nel pezzo poi c'è scritto correttamente risalta molto ecco questo 100 anziché 110 però non è questo il punto diciamo però effettivamente diciamo così nella giostra dei bonus hai ragione questo è 110% Davide qualcuno direbbe ecco non vogliono più darci quel 10% hanno già cambiato idea no 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 è 110% però dice moltissimo perché se tu sei riuscito utilizzare meno di un miliardo anzi non utilizzare impegnare meno di un miliardo su 18 che saranno stanziati ti devi chiedere che cavolo è successo dire la burocrazia non significa niente perché non vai da nessuna parte allora il meccanismo era un meccanismo secondo me saggio è quello che vuoi dire facciamo così allora Legrenzi fa i lavori a casa sua e anticipa i soldi mette i soldi noi ieri restituiamo non quello che ha speso ne restituiamo di più il 110% nel tempo così Legrenzi mette i suoi soldi il mercato ha una spinta perché il privato ha fatto il suo investimento e noi nel tempo ti rimborsiamo ma Legrenzi dice io non ce li ho non voglio rischiare puoi andare in banca paghi la banca anticipa e otteniamo lo stesso risultato oppure addirittura può essere dal lato dell'impresa l'impresa dice guarda mi carico io la cosa così io mi prendo il rimborso nel tempo tu ti prendi il lavoro fatto che ti interessa fare e il meccanismo economico si è rimesso in modo insomma da i tre punti comunque ha una sua ragionevolezza e allora perché si blocca perché questo è un paese dove io non mi fido di nessuno non mi fido del fatto che Legrenzi faccia regolarmente i suoi lavori non mi fido del fatto che l'azienda avrà regolarmente i conti non mi fido di qua non mi fido di là ogni volta per fare una cosa ci vuole controllare il risultato è che si ferma tutto di fronte a una roba in cui ti devi prendere il 110% di quello che ritieni essere un lavoro utile a casa tua cioè che devo fare di più portartelo su un vassocchio d'argento però non funziona per questa ragione allora la fiducia non è una cosa come diceva la riclami una volta la fiducia è una cosa seria la fiducia è una cosa veramente importante perché io quando vedo il semaforo verde passo e quando vedo il semaforo rosso sto fermo e quando vedo il verde passo perché mi fido del fatto che quelli che vedono il rosso stanno fermi certo ogni tanto c'è qualche pazzo che passa con il rosso e crea un problema ma infatti diciamo che è pazzo se sopravviva all'incidente lo mettiamo in galera perché la fiducia se a ogni semaforo dovresti dire ma tu sei veramente sicuro scendi dalla macchina vai a controllare che non ci sia qualcuno che sta passando e poi se ferma tutto cioè non funziona più niente noi la burocrazia è questo noi abbiamo creato una burocrazia in cui si scende dalla macchina col verde per vedere se all'incrocio c'è qualcuno perché così evitiamo che ci siano i ladri i furfanti e i truffatori no così evitiamo che si muova qualsiasi cosa chiarissimo chiarissimo andiamo anche Davide sui quotidiani sportivi perché ovviamente il tema che ha infiammato i nostri microfoni durante la linea diretta la gazzetta dello sport apre con questo super lega super no tutti contro l'accordo di 12 club europei tra loro anche juve inter e milan ed è bufera e poi il corriere dello sport cade solo la juve conte si ferma a napoli 1 a 1 a 9 punti su pioli e poi un rapido sguardo anche ai motori perché ancora la gazzetta formula 1 emilton sbaglia vince max e imola ritrova la ferrari e infine la moto gp quartararo si bravo bagnaia la cronaca purtroppo ci riporta a colle ferro noi siamo a pagina 19 il corriere della sera a colle ferro dove il tra il 5 e il 6 settembre scorso era stato ucciso willy monteiro duarte a soli 21 anni pestato dai rivali di un'altra palestra fermiamo i violenti a colle ferro due arrestati per l'aggressione del 17enne appunto nello stesso paese di willy l'allarme di zingaretti Davide si si ma bisogna fare le indagini in maniera più approfondita e bisogna bisogna arrestare chiunque partecipi a questo genere di cose leggo sui giornali anche questioni tipo eh ma sai sono chiuse le scuole sono chiuse le palestre è un momento di grave disagio no questo si chiama giustificazionismo devono riaprire le scuole devono riaprire le palestre perché è giusto andare a studiare ed è giusto andare a allenarsi ma che c'ha che vedere questo col fatto che esco da casa e vado a menare addirittura a morte qualcun altro ma stiamo scherzando la violenza va punita in quanto tale e va spiegato anche a questi a chi ne è protagonista che questa la violenza non è che migliora o peggiora se dentro ci metti delle allucinazioni ideologiche no perché qualche qualche decennio fa avevamo a che fare con più gente che usciva da casa andava a picchiare sostenendo di avere ragioni politiche no il punto è sempre lo stesso e cioè che la violenza è una forma di affermazione io esisto perché ti nego io esisto perché ti picchio ecco bisognerà fargli capire che chi esiste negando semplicemente non è niente e nessuno cioè è comunque quel poco che è deve finire davanti a un giudice e deve finire condannato alle 7.30 in punto l'avevamo promesso coinvolgiamo Davide Giacalone perché è un evento ma non tanto per la notizia ma perché Davide commenti una notizia di sport in realtà non è così non è solo di sport credo credo che ci sia dell'altro Davide quello è di Super Lega il problema è quello questa cosa di Super Lega perché Emmanuel Macron che dice un progetto che mette a repentaglio il principio di solidarietà e di monotocrazia dello sport Boris Johnson dice se si dovesse andare davvero in questa direzione si danneggerebbero il gioco ai tifosi e aggiunge Boris Johnson che i club coinvolti ora devono rispondere ai propri tifosi e consultarli una sorta di piattaforma russo del calcio allora uno dice ma che diamine sta succedendo insomma la questione è che sul Corriere della Sera sconcerti che so essere uno molto bravo a occuparsi di queste cose di cui io invece sono terribilmente ignorante è un'idea rozza che va contro il gradimento dei tifosi ma se fosse vero tutta questa sollevazione di Scudi se fosse vero che va contro l'interesse dei tifosi se non fosse divertente sarebbe già finita no? queste sono società che inseguono gli affari inseguono il business costano l'ira di Dio i diritti televisivi vengono venduti a cifre sproporzionate i giocatori costano e peraltro anche guadagnano molto bene quindi voglio dire tutto questo va finanziato in qualche modo quindi se fosse provocasse il rigetto dei tifosi il titolo del Corriere della Sera in prima pagina è indicativo perché è l'NBA del calcio negli statuti l'NBA funziona non è che non funziona non è che si è è semplicemente che bisogna distinguere e tutelare lì sì ci vogliono i Macron i Johnson i Draghi cioè i Merkel cioè i governanti e tutelare lo sport amatoriale lo sport come crescita lo sport come competizione olimpionica nel senso di principio no? da lo sport professionista lo sport professionista non è più quello dell'operaio che ha finito il suo turno va nel campetto si mette le scarpette e tira quattro calci a un pallone di cuoio insieme agli amici e il più bravo poi riesce a giocare anche la domenica questo è bellissimo è molto romantico ma è da mo che è finito voglio dire quindi mi pare che si assista a uno scontro di business nel tentativo di dargli un significato sportivo lasciamo a quello che è cioè uno scontro di business succede spesso nel calcio il titolo che hai citato da Repubblica con il riferimento all'NBA porta la firma di Paolo Condove insomma è un'altra garanzia citavi poco fa sconcerti li abbiniamo grazie a Davide Giacalone appuntamento domani mattina 7.10 per la rassegna stampa grazie a voi e buona radio a tutti ci trasferiamo letteralmente oltre oceano perché oggi per il consueto appuntamento del lunedì con gli under 30 sono con noi collegate Maria Paola Testa ed Elisa Piscitelli sono fondatrici di Orientami questa piattaforma di career coaching digitale che ovviamente serve agli studenti delle superiori un po' per aiutarli nella scelta del futuro è stato avviato da poco più di un anno le due giovani perché non possiamo che definirle così stanno in due luoghi diversi negli Stati Uniti ma adesso subito le salutiamo chiediamo a loro buongiorno Elisa buongiorno Maria Paola buongiorno 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 allora sono davvero impressionanti i dati devo dire di questa di questa piattaforma che ha già lavorato con oltre duemila studenti innanzitutto vi chiediamo vi chiediamo come è nata questa vostra idea Maria Paola partiamo da te allora diciamo che nell'Iseo abbiamo studiato assieme all'università poi ci siamo un attimino perse ci siamo rincontrate circa un anno e mezzo fa che io stavo iniziando ad Harvard e lei stava finendo all'MIT quindi ci siamo trovati a parlare dei nostri percorsi della strada che abbiamo fatto insomma ci siamo resi conto che sarebbe stato bello aver avuto qualcuno che insomma lungo la strada ci avesse dato qualche consiglio e questa figura un po' mancava e così è nata poi l'idea di mettersi assieme e lavorare su questo progetto in realtà adesso state distanti perché tu sei a Boston e invece Elisa sta a Los Angeles ovviamente è chiaro che con quello con il mondo che abbiamo oggi si può stare assolutamente a continenti di distanza senza problemi ma come sta proseguendo il vostro lavoro e che tipo di insomma di soddisfazioni vi sta dando Maria Paola Elisa scusa sì allora impressionante nel senso che appunto come diceva Maria Paola abbiamo iniziato un anno e mezzo fa e tutto da remoto tutto da remoto fin da subito i risultati che abbiamo ottenuto lasciano pensare nel senso che noi all'inizio abbiamo visto questi ragazzi proprio persi lasciati a se stessi in questo momento importante le loro vite appena abbiamo iniziato a parlare di orientami nelle classi un ragazzo su sei si è iniziato a scrivere e poi quando appunto iniziavano il percorso questo percorso funziona a passi di consapevolezza di sé del mondo intorno e c'erano i ragazzi che aspettavano lunedì mattina che noi pubblicassimo questi questo materiale questi questi risultati insomma cerchiamo di simulare un po' il funzionamento di questa piattaforma perché noi sappiamo che i ragazzi insomma di terza media ma anche quelli di quinta superiore hanno già preso alcune decisioni soprattutto chi si deve iscrivere alle superiori poi per l'università c'è tempo e c'è tempo anche per perfezionare o cambiare la propria decisione allora io sono uno studente delle superiori e sono un po' indeciso su cosa fare mi iscrivo a questa piattaforma e che cosa succede? allora intanto il nostro target iniziale sono proprio i ragazzi del terzo e del quarto anno proprio perché secondo me l'orientamento non è una cosa che succede in 30 secondi con un questionario e poi l'illuminazione sai cosa fare da grande ecco per noi è proprio un percorso e un percorso che ti insegna a guardare chi sei tu davvero cosa è importante per te e poi effettivamente quale scelta ti rispecchia di più quindi praticamente cosa succede? i ragazzi ogni lunedì ricevono un esercizio che è un esercizio interattivo quindi può essere ad esempio avere dei video di alcuni testimoni possono pure dover parlare con dei testimoni effettivamente che piano piano con delle istruzioni chiare li guida in questa scelta ok quindi è proprio un percorso lungo non è appunto come dicevi un semplice questionario è molto di più voglio capire da Elisa in questo momento quali sono le difficoltà maggiori che trovano i ragazzi e che vi vengono in qualche modo poi trasmesse quali sono i punti più oscuri che appunto poi li fanno arrivare su Orientami per cercare di capire dove è la luce sul loro futuro assolutamente allora i ragazzi partono l'orientamento guardandosi nelle materie scolastiche quindi un ragazzo dice sono bravo in matematica forse potrei fare fisica, matematica e ingegneria ma chissà che cosa sono queste cose insomma quindi sicuramente la paura di sbagliare l'inconsapevolezza di quali sono le proprie passioni i propri punti di forza su cui scommettere per essere per avere un futuro di successo e poi effettivamente che cosa significano le diverse facoltà sono guidati da stereotipi e quindi in generale non sanno da dove partire in questa ricerca è chiaro è chiaro domanda velocissima ma proprio risposta in un flash Maria Paola e Elisa nell'ordine nei vostri progetti di vita ci sono insomma c'è la volontà di restare lì o immaginate magari che portando avanti questa vostra attività ci possa essere anche in campo l'opzione di tornare in Italia no decisamente tornare in Italia sì tornare in Italia questo è bello questo è molto bello ci salutiamo così grazie a Maria Paola Testa e Elisa Piscitelli ragazzi grazie a voi per l'invito ecco naturalmente orientami lo trovate e quindi online online orientami online stanno per chiudere le iscrizioni quindi chi vuole forza grazie grazie mille bellissima idea e buon riposo perché lì siamo di notte mi pare eh sì siamo di notte grazie mille grazie davvero ciao ciao a lunedì prossimo per questo appuntamento con i migliori talenti under 30 di Forbes e adesso c'è un talento anche della radiofonia italiana ormai Don Antonio Mazzi buongiorno eeeh cominci con complimenti sì con calma con calma è così sei un talento è un dato di fatto messaggio ai genitori imparate dai vostri figli quello che ancora non avete imparato di voi molto bello ci siamo molto bello imparate dai vostri figli quello che ancora non avete imparato di voi un invito un invito alle famiglie grazie a Don Antonio appuntamento domani ciao 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 buona settimana stiamo per entrare in argomento calcio oggi una pagina abbastanza ricca e subito il saluto a Paolo Pacchioni buongiorno Paolo ciao Giusi buongiorno a tutti buongiorno buongiorno partiamo dal campionato Paolo però poi è chiaro che il temone attesissimo è questa questa Super League tra poco ce ne parlerai andiamo al campionato anche perché sono cambiate un po' le posizioni in classifica con l'Atalanta che si è presa il terzo posto eh sì l'Atalanta ieri ha battuto la Juventus 1-0 una situazione episodica era una partita da pareggio nel finale i bergamaschi hanno trovato questo gol con il quale hanno piazzato il sorpasso sulla Juve che al momento è quarta e quindi deve guardarsi un pochino le spalle per la corsa la Champions League il Napoli sognava l'aggancio ha pareggiato contro l'Inter quindi è comunque due punti dietro la Juventus e un punto dietro al Napoli c'è la Lazio che però deve recuperare una partita eh insomma la corsa Champions è veramente molto appassionante per quanto riguarda invece il campionato l'Inter ha interrotto la striscia di vittorie però con questo pareggio di Napoli ha fatto un altro passettino verso lo Scudetto adesso i punti di vantaggio sul Milan sono nove quindi non più undici ma il vantaggio sembra rassicurante ieri allo Stadio Maradona un pareggio giusto le due squadre si sono equivalse l'Inter ha preso gol su un episodio sull'infortunio di Andanovic che ostacolato da De Vrij si è fatto gol da solo poi è arrivato il pareggio di Eriksen l'Inter comunque nel momento in cui è andata sotto e non capitava da dicembre che l'Inter fosse sotto è riuscita a reagire bene Lukaku ha colpito due pali è arrivato il pareggio di Eriksen insomma giusto così direi allora Paolo noi abbiamo come diceva Giuse in apertura ma ne abbiamo parlato anche nella prima ora di Non Stop News insieme ai nostri ascoltatori un'urgenza che è quella relativa alla notizia con la quale ci siamo svegliati la Superlega che rischia di cambiare anche un po' l'assetto del calcio europeo il tuo collega Paolo Condò oggi su Repubblica la definisce e definisce questa vicenda la guerra di indipendenza del calcio sei d'accordo? assolutamente sì ed è la guerra del grano nel senso di guerra di soldi perché le grandi squadre i grandi club europei che vogliono partecipare a questo progetto perché lo fanno perché incasserebbero molto più soldi rispetto a quello che accade adesso qual è il vulnus? qual è il problema di questa Superlega? innanzitutto che da un punto di vista sportivo a me non piacciono le competizioni dove ci sono gli inviti e dove non ci sono le qualificazioni cioè tu ci sei perché ti hanno invitato e non perché te lo sei meritato invece il bello del calcio che comunque c'è un Leicester che può vincere il campionato inglese c'è l'Atalanta che può arrivare in semifinale di Champions League invece se diventa un club ristretto dove ci sono sempre le solite 15-20 squadre secondo me diventa meno sport e più spettacolo la trovo un po' un'americanata che negli Stati Uniti può andare bene in Europa un pochino meno e poi soprattutto c'è un problema di natura giuridica perché quando questo progetto è stato comunicato FIFA UEFA e federazioni nazionali si sono schierate contro in un modo netto quindi si rischia veramente di andare a uno scontro molto molto duro perché ieri l'UEFA ha detto benissimo chi aderisce a questo tipo di progetto è fuori da ogni tipo di competizione quindi non potrebbe partecipare nemmeno ai campionati le squadre italiane coinvolte in questo progetto sono tre lo ricordiamo sono la Juventus il Milan e l'Ida Ma è pensabile Paolo che si arrivi a un provvedimento del genere? Al momento non credo perché significherebbe uno strappo tanto tanto pesante quindi io credo che questo sia un primo passo verso questo tipo di progetto che è stato accelerato dall'emergenza Covid era già in testa da un po' chiaramente i mancati incassi per la pandemia hanno velocizzato questo tipo di processo però non si può andare contro le istituzioni dico molto ballamente una cosa se tu non giochi con l'egita dell'UEFA chi le arbitra queste partite? Quindi dovresti farti una squadra di arbitri fuori dall'UEFA che vanno soltanto ad arbitrare la Super League e soprattutto queste squadre di vertice del calcio europeo non potendo partecipare ai loro campionati come si allenerebbero come arriverebbero a questo tipo di competizione e un campionato italiano senza l'Inter e il Milan e la Juve ha senso un campionato inglese senza le due squadre di Manchester il Chelsea il Tottenham e l'Arsenal avrebbe senso secondo me no quindi sicuramente lì non si arriverà mi pare di capire dal tuo punto di vista Paolo ma si potrà arrivare invece a inserire a questo punto questa competizione insieme a tutte le altre cioè la UEFA e la FIFA faranno il passo indietro? Non credo non credo perché la UEFA non può dire va bene rinuncio alla Champions League che è il brand forte dell'UEFA perché Florentino Perez vuole farsi il suo torneo con gli altri amici quindi credo che eventualmente si potrà trovare un compromesso per modificare il format della Champions League cosa che peraltro è già in agenda da partire dal 2024 e ci sarà a Montrò domani una riunione proprio dell'UEFA per parlare di questo Si diciamo che questa notizia arriva in ore abbastanza cruciali per i progetti della Champions League grazie a Paolo Pacchioni torneremo naturalmente a occuparci di questo e quindi ti ringraziamo Grazie a voi Enrico ciao buona giornata vogliamo continuare a parlare di sport subito parlare anche di MotoGP e lo facciamo con il nostro commentatore speciale con il nostro inviato di RTL 125 che è Max Biaggi già collegato con noi buongiorno Max ciao ciao buongiorno allora ieri il Gran Premio del Portogallo la MotoGP in Portogallo ancora una vittoria per la Yamaha che sembra la moto più performante in questa stagione eh sì abbiamo visto una Yamaha volare decisamente con Quartararo un po' carente in tornata perché il suo compagno di squadra ha fatto molto molto fatica e l'unica Yamaha che si è difesa oltre a Quartararo è quella di Morbidelli che era in grande rimonta ha scritto quarto però gara bella da vedere con tanti sorpassi un Bagnaia che è tornato su dopo come sapete era in pole position purtroppo l'hanno retrocesso all'undicesima posizione è riuscito a salire fino al secondo posto e Mir che comunque da campione del mondo in carica a portare a casa un terzo posto molto bello e poi Max c'è un altro tema che è quello del ritorno di Marquez dopo il lungo infortunio e insomma l'ha detto lui stesso ha un po' sofferto fisicamente la tua opinione qual è? Cioè credi che abbia fatto bene a rientrare oppure insomma avrebbe dovuto aspettare ancora un po'? No no ha fatto molto molto bene e anche per la prestazione che ha ottenuto perché non non dimentichiamo che la MotoGP è la Formula 1 a due ruote ed è veramente esasperata in tutto fisico e quant'altro lui è stato fuori un anno senza correre questo il tracciato è praticamente fisico totalmente fisico si è difeso bene devo dire la verità e poi vorrei far notare il sesto posto di Aprilia di Espargarò che ha fatto una gara veramente bella così testimoniando fino alla fine la bontà del progetto Aprilia che è tornato a essere veramente competitivo tra il Qatar e Portimao è sempre stato nella top 10 e ci fa davvero molto piacere parliamo anche degli italiani secondo posto per Bagnaia gli altri cosa hanno fatto come si sono comportati ieri? Ma sì è Morbidelli in quarto posto molto molto bene poi ecco era in difficoltà Rossi non è mai stato protagonista non lo so Petrucci è anche molto in difficoltà non è un bel momento per loro ma almeno dall'altra parte abbiamo Bagnaia e Morbidelli che hanno fatto vedere delle cose greggie e Max invece sai che noi siamo anche curiosi degli affari tuoi quindi venendo al tuo team come vanno le cose? Con il rigardo a Max li senti benino a settimo posto per Fenati poteva ottenere qualcosa di più ma va bene così l'altro ragazzino comunque era ottavo e poi ha fatto una scivolata a pochi giri dalla fine ci sta 17 anni poche gare nell'attività nella sua nel suo palmarès però è un ragazzino che ne sentiremo parlare vedrai ci fa anche di questo ci fa particolarmente piacere caro Max senti andiamo a RS la prossima settimana in Spagna prossima gara in realtà in Spagna che ci aspettiamo? Secondo me io la butto là secondo me vedremo un Marquez in grande spolvero l'area di casa vedrai lì darà quella spenta in più si correrà a Gerez il circuito dove ha spesso vinto è meno meno faticoso di questo di Portimao dunque con una settimana di riposo dieci giorni potrà recuperare le energie Mark sarà l'uomo da battere vedrò vedo ancora bene forte anche la gamma di Quartararo il resto è tutto un incogno da vedere molto bene la seguiremo con te allora prestissimo grazie all'inviato speciale di RTL 125 Max Biaggi ciao grazie alla prossima ciao tornate a trovarci Veronica Gentili giornalista conduttrice di stasera Italia weekend su Rete 4 Veronica bentornata grazie grazie a voi buongiorno a tutti buona settimana naturalmente senti partiamo da questo pass che sta facendo diciamo sognare tanti italiani diciamo la verità perché con le dosi che stanno arrivando 54 milioni entro l'estate e la possibilità di esibire questo questo certificato che poi capiremo meglio che cos'è forse ci si sta aprendo la possibilità di lasciarci alle spalle definitivamente questo anno incredibile pensa che c'è anche chi non sarebbe del tutto d'accordo perché ci sono per esempio presidenti di regione che preferirebbero muoversi senza perché chiaramente richiederà ulteriori controlli perché sarebbe come dicevi giustamente un'agevolazione per poter ricominciare a pensare di viaggiare e muoversi però dall'altro lato richiede tutta una serie di verifiche per cui che venga fatto per chi è vaccinato e con il certificato vaccinale che venga fatto con il tampone negativo oppure un certificato di essere guarito dal covid di essersi negativizzato insomma richiederà una serie di procedimenti in più si sta pensando alla digitalizzazione di questi certificati insomma sarà un percorso più complesso e poi ci si domanda anche per esempio nel passaggio tra regioni non si è strutturati per pensare come un passaggio tra frontiere quando passi la dogana per andare all'estero quindi insomma ci sono una serie di cose al vaglio che andranno verificate e andranno capite e poi chiaramente ci sono anche tutti non vaccinati che dicono ma come allora io me ne posso andare in vacanza perché sono stato vaccinato e chi per età appunto per tutta una serie di ragioni non potrà farlo diventa più complessa la questione quindi sicuramente è una delle cose che si stanno valutando è uno dei nodi aperti su questo decreto riapertura che su cui stanno mettendo le mani e vi premetto che secondo me sarà un'altra settimana campale perché già abbiamo avuto delle notizie significative molto significative insomma diciamo che dal 26 in poi pensiamo di rivedere la luce in termini di riaperture però ci sono ancora tanti elementi sul tavolo a partire dal coprifuoco su cui adesso sta rilanciando la Lega e Salvini sotto in qualche modo pressione anche di Giorgia Meloni poi resta invece la perplessità di moltissimi su queste riaperture qualcuno teme che siano troppo accelerate che possano esserci poi delle necessità di dover tornare indietro insomma diciamo che la materia è molto calda e secondo me nell'arco di questa settimana ci saranno ancora tanti dettagli da modulare tra poco parliamo magari facciamo anche un passaggio sul coprifuoco e su queste pressioni per toglierlo e per quanto tempo insomma da quanto noi chiediamo una data e naturalmente la chiede chi è maggiormente in difficoltà per cominciare a ipotizzare delle riaperture adesso abbiamo questa data il 26 aprile è però una data che non mette d'accordo tutti intanto vogliamo ricordare che insomma non è che il 26 aprile riapra l'Italia e riapra tutto ci sono le prime riaperture questo è bene ricordarlo e poi anche a leggere no alcuni titoli di giornale chi non è d'accordo con questa data dice beh perché poi la gente non ha buon senso e la intenderà come un liberi tutti in realtà insomma speriamo che non sia così allora guarda Enrico secondo me c'è un elemento molto importante su cui si rischia di creare un misunderstanding il presidente del consiglio ha detto mentre durante la conferenza stampa ha detto che queste chiusure saranno irreversibili e attorno a questo ci può essere un fraintendimento importante come a dire ormai andiamo verso le riaperture si riapre punto e questo toglie ogni tipo di monito anche al comportamento individuale come a dire ormai abbiamo riaperto tanto si rimane aperti quindi non ci dobbiamo neanche più porre tutti quegli scrupoli che ci siamo posti finora in realtà non è così perché per quanto si parli di irreversibilità i dati anche se ora in virtù di quello che è stato chiamato rischio ragionato o che può essere tradotto da noi appunto che ci occupiamo di esaminare quello che vi ho detto come una vera e propria scelta politica che in parte mette anche da parte l'evidenza dei dati ma se i dati dovessero rimporsi in una maniera preponderante sulla realtà a quel punto dire irreversibile è piuttosto incauto perché lì poi si dovrebbe tornare a chiudere e questo è importante ribadirlo perché se non viene detto viene davvero inteso come un liberi tutti complici anche i titoli dei giornali delle trasmissioni in cui lo dice riapre l'Italia quindi c'è questa questa ondata di entusiasmo che può veramente indurre a non comprendere quello che sta accadendo Veronica poi c'è tutta la questione dei ristoratori che a metà potrebbero riaprire c'è tutta la questione degli aperti e dei chiusi e anche qui si fanno contenti ma solo alcuni quindi anche qua disparità di vario tipo questo assolutamente chiaramente c'è un tema perché tutti coloro che hanno i Deor gli spazi all'aperto è un tema che si poneva dall'anno scorso noi lo sappiamo c'è chi ha creato appunto degli spazi sui marciapiedi chi si è strutturato però è chiaro che la riapertura all'interno ha intanto una ragione sanitaria evidente per cui viene ritardata ed è un altro dei nodi a proposito che resta sul tavolo questa settimana perché invece per esempio la Lega vorrebbe rianticipare anche queste al 15 maggio quindi c'è è vero che la ristorazione è uno di quei settori che si fa molto sentire mi viene da aggiungere non l'unico paradossalmente sono coloro che hanno avuto quasi più voce poi nelle proteste nel gruppo e nelle manifestazioni appunto di Io Apro quindi quelle realtà che si sono opposte mentre poi ci sono tutte altre categorie anche che sono rimaste escluse penso a una su tutte che è la categoria dello spettacolo che silentemente ormai è chiusa da praticamente oltre un anno salvo piccoli squarci e periodi e che comunque nonostante siano zone estremamente protette a differenza del ristorante lì la mascherina la porti sono stati zitti e muti uno direbbe e purtroppo quindi insomma di categorie che sono state penalizzate anche quando la ristorazione magari un pochino poteva aprire e tirare così un po' un fiato ci sono state altre categorie che non hanno proprio potuto far nulla Veronica salutiamoci così allora prima commentavamo anche noi le immagini che arrivano da Milano da Roma di queste feste organizzate sui balconi in casa di notte le hai mandate in onda anche tu ieri sera stasera Italia tu sei gasmagnana rispetto ai tuoi vicini nel senso che se tu vedi una festa abusiva ricordiamo che Gasman per chi non lo sapesse ha fatto questo tweet ha detto i miei vicini organizzano le feste mia moglie è spaventata li denuncio la tua? guarda io non credo che riuscirei nel senso che io l'ottica del guardo cosa fa il mio vicino chiamo la polizia probabilmente individualmente farei fatica però l'idea di mettere alla gogna coloro che chiamano proprio non sono d'accordo nel senso che comunque siamo tutti quanti in una situazione di cattività ragazzi ce lo possiamo dire stiamo facendo dei sacrifici enormi per cui è chiaro che poi c'è anche la percezione nel momento in cui tu vedi persone accanto a te che fanno quello che vogliono mentre tu ti senti un po' lo sciocco di turno che resta col cerino in mano dici ma come mai visto che è uno sforzo collettivo non è che faccio la spia per principio o per invidia la faccio perché penso che gli sforzi debbano essere condivisi perché portino da qualche parte altrimenti tu fai la grigliata e io resto chiuso qui dentro senza neanche poter pranzare con un panino seduto al tavolino del bar fino all'anno prossimo dunque io la condanna della spia e la delazione stile vite degli altri per citare il film no non ci credo però individualmente a vedermi a fare la telefonata non lo so ecco su questo non posso garantirvi poi insomma vuol dire che lei ha un buon rapporto con i vicini perché poi dipende anche da quello un sintesi è questo esatto e quindi non può anche se è da bere alle piante grazie grazie Veronica Gentini naturalmente alla prossima settimana buon lavoro ciao ciao grazie questa sera come sempre il lunedì su RTL 125 la suite 125 prime time live e sarà ospite Noemi che come facciamo di consueto al mattino abbiamo buttato giù dal letto buongiorno Noemi ciao buongiorno 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 allora questa sera ti aspettiamo qui come diceva Giussi alla suite 125 prime time live dove insomma tornerai finalmente esibirti dal vivo come vivi questa attesa? beh sono molto sicuramente molto emozionata perché beh cantare dal vivo è sempre una grande emozione diciamo che è tutta una scusa per fare questa cosa sono contenta finalmente di poter di poterla fare ecco assolutamente grande emozione eh ci ne siamo certi l'abbiamo appena ascoltata la tua canzone Glicine che hai portato al festival di Sanremo è molto un testo molto intimo una canzone molto intima ci racconti un po' come è nata insomma che cos'è per te Glicine? ma questa canzone diciamo che è la punta dell'iceberg no? perché comunque sia è un pezzo su cui ho puntato tantissimo l'ho portata a Sanremo e non ti nascondo che quando sono salita sul palco ero molto emozionata perché comunque portavo con me tanta roba questo Glicine questo Glicine che ha queste grandissime radici come possono essere le nostre consapevolezze però questi fiori super fragili che sono poi le emozioni che viviamo mi ha rappresentato molto bene mi sentivo mi sentivo veramente centrata in questa in questa immagine poi il fatto che sta andando tanto 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 bene insomma è già disco d'oro e speriamo che insomma di continuare questa avventura mi sembra che anche a voi mi piaccia e le persone insomma me la cantano spesso mi sembra che sta andando molto bene piace tanto anche a noi infatti l'hai sentito appena prima delle news tra l'altro è appena uscito il tuo nuovo album Metamorfosi che cosa c'è in questo nuovo lavoro ma c'è tanto c'è tanto della insomma della nuova me siamo tutti in evoluzione io poi ho voluto chiamare il disco Metamorfosi perché veramente queste canzoni sono la fotografia di un salto verso me stessa le cose che amo verso il futuro e quello che sarà io mi sento ancora in Metamorfosi ecco non mi sento proprio arrivatissima e quindi insomma spero che ci sia sempre sempre di più tra la musica che faccio e la persona che sono un grande legame ecco spero che vi piaccia il disco ecco poi dipende tutto da voi complimenti davvero per questo lavoro anche su te stessa grazie davvero a Noemi allora ci vediamo e ci sentiamo stasera ci vediamo questa sera su RTL 125 ciao a domani a cura della redazione giornalistica di RTL 125 direttore responsabile Luigi Tornari grazie a tutti grazie a tutti